Amici bentornati. Chi mi segue su Instagram avrà forse notato che di recente mi sono piazzato piuttosto in alto in un contest di editing creativo indetto da Skylum Luminar. Si tratta di un plugin che serve per editare le foto e la cosa che mi interessa di più in assoluto di questo plugin è che permette di modificare il cielo. In pratica lo Sky Replacement, una cosa che io faccio già con Photoshop, è possibile farla in maniera molto più rapida e molto più efficace tramite l'utilizzo di questo plugin. Ora vi faccio vedere il primo edit che ho fatto su una mia vecchia foto perché questa è una foto molto vecchia e questo è l'edit che ho fatto in pochi minuti utilizzando il plugin di Skylum Luminar. Ve lo faccio vedere perché sono veramente sorpreso di che cosa si riesce a fare con questo plugin anche se ci sono delle lievi imperfezioni come potete vedere che sono sicuro possono essere sistemate in un secondo momento. Questo è proprio un edit puro fatto solamente con Luminar. Adesso io cercherò di andare a replicarlo, ovvero faccio tutto da zero, l'ho fatto di getto la prima volta, lo rifaccio di getto la seconda volta. Quindi andiamo, apriamo l'immagine, andiamo su Filter e andiamo ad aprire Luminar AI. Come vedete il plugin si apre, funziona quasi come uno stand alone nel senso che io lo apro da dentro Photoshop e quindi mi riporterà le modifiche all'interno di Photoshop però sostanzialmente è quasi uno stand alone perché mi apre una nuova finestra, Luminar AI e qui siamo all'interno dell'interfaccia. Abbiamo la nostra foto. Io non uso i template perché non voglio usare quelli che ci sono già, voglio semmai farmi i miei e quindi vado direttamente su Edit. Adesso quello che mi interessa è andare nel reparto creativo e andare a sostituire il cielo. Vediamo che nel momento in cui io vado a selezionare un cielo, adesso lui ci mette due secondi perché se lo carica, ecco, vedete che mi ha sostituito il cielo e il risultato, devo dire, è veramente sorprendente, nel senso che sì, c'è un po' di bordino, però è una cosa veramente minima e rispetto a quando lo si fa a mano con Photoshop ha comunque una resa più che decorosa anche senza toccarlo. Ora andiamo a vedere un cielo che possa andare bene con la nostra scena perché questa era una scena di tramonto, qui abbiamo un favor con cui possiamo vedere, possiamo sempre vedere l'immagine nuda rispetto a com'era con la modifica. Vedete che anche con una modifica fatta assolutamente a caso, perché io prendo un cielo a caso lo sbatto dentro e già uno dice, beh, non è male però. Adesso vediamo, io se riesco, non rifaccio esattamente la stessa cosa che avevo fatto prima, faccio una cosa lievemente diversa, tanto sto andando a caso, ci sto proprio giocando. Andiamo a vedere Sky Orientation, Vertical Position, lo possiamo spostare un pochino, vedete, quindi possiamo decidere dov'è l'orizzonte e collocarlo con precisione. Possiamo andare a vedere Horizon Blending e quindi possiamo fare, questa è una cosa che io faccio su Photoshop, abitualmente lo faccio con le maschere, qui lo posso fare senza usare le maschere, è tutto integrato in questo plugin. L'effetto, la resa, secondo me, è veramente notevole. Andiamo a vedere se possiamo fare qualcosa per migliorare la maschera. Così andiamo a eliminare, andiamo a eliminare quel bordino bianco che si vede in alcuni punti, che è il cielo originale. Vediamo se possiamo migliorarlo ulteriormente. Io adesso qui ci gioco in maniera brutale perché devo capire che cosa fa. Quindi guardo e cerco di capire che cosa fa. Ok, questi due non mi sembra che stiano facendo chissà cosa con questa impostazione, quindi non li tocco. Secondo me è una buona norma quando muoviamo un fader, se non fa niente, è una buona norma annullare e rimetterlo com'era. Perché adesso non fa niente, ma se faccio delle cose dopo potrebbe cambiarmi dei parametri invece, quindi è meglio lasciarlo com'era. Andiamo a vedere Reflection perché noi possiamo gestire il riflesso sull'acqua. Skylum va a rilevare se c'è dell'acqua e va a piazzare i riflessi solamente nell'acqua. Questo è un plugin che fa uso di intelligenza artificiale, infatti si chiama Luminar AI ed è veramente notevole il lavoro che fa, secondo me. Andiamo a vedere la quantità di riflesso e vediamo che possiamo aumentarla o diminuirla. Io credo che andrò su una cosa del genere e credo anche che lo sfocherò un pochino perché il riflesso sull'acqua non è perfettamente a fuoco, quindi una cosa del genere. Ecco, mi piace abbastanza. Qui abbiamo anche cielo aumentato che permette di aggiungere degli oggetti. Adesso io questo l'ho provato prima, devo dire che per certe cose può funzionare ed è carino, non sempre. Con un cielo così, con queste nuvole, secondo me non ci posso fare granché. Però due uccellini credo che si possano mettere. La roba carina è che dopo si possono anche spostare. Io posso fare play subject, posso prenderli e spostarli dove voglio. Posso anche ingrandirli, posso fare tutto quello che mi pare. Quindi diciamo che con questo ho fatto. Io adesso vado a vedere Dramatic che l'ho provato prima e non mi dispiaceva. Ovviamente desatura anche un pochino, quindi vado molto piano con questo. Vado a vedere anche mood. Qui ci sono dei loot, delle look up table che sono carine. Io sono assolutamente contrario a utilizzare le look up table perché secondo me snaturano molto l'immagine e soprattutto non sai quello che stai facendo. Tuttavia ho provato prima questo Riverside. Qui sto copiando me stesso, me ne rendo conto. Sto riutilizzando la stessa cosa. Però Riverside per questa scena secondo me va molto bene. Ovviamente se la porto al massimo fa schifo e terribile. Ma se io gliene do poco, dovrò fare un video prossimamente in cui vi parlo della regola del 20%. Io sono arrivato all'opinione che un effetto debba essere usato al massimo fino al 20%, non un grammo di più. Di solito 20% è la quantità perfetta. Infatti io a 20% mi fermo perché a 20% mi piace. Così non c'è. A 20 mi piace, così fa schifo. Quindi 20 è proprio la misura perfetta. Così mi dà esattamente la quantità di effetto che secondo me è necessario per questa scena. Vediamo se possiamo fare qualcosa anche qui con Mystical. Possiamo renderla un pochettino più eterea, un pochino più sognante. Però in realtà la snatura un po' la rende più finta. Non mi fa impazzire questa cosa. E quindi io vi direi che mi fermo qua. Mi fermo qua perché secondo me la scena così è giusta. È più o meno come la volevo. È abbastanza realistica. Si potrebbe fare qualcosa perché gli uccelli sono troppo netti. Però devo ancora metterci mano per capire bene come si fa. Tutto sommato credo che sarebbe sufficiente andare a selezionarli e chissà se c'è un'opzione per sfocarli un pochino questi uccelli. Forse no. Forse no. Questa ma è avanzata e defocus. Guarda qui. E quindi posso andare a sfocare gli uccelli. Visto che c'è tutto. Si trova tutto. Ecco e così io direi che è meglio perché qui gli alberi sono sfocati. Sì ok. I puristi giustamente mi staranno dicendo allora devi sfocare anche il cielo. Andiamo a sfocare anche il cielo perché purtroppo purtroppo questa era una lente con un'apertura abbastanza ampia. Era il 24-70 di Canon e probabilmente visto che era il tramonto l'avevo usato abbastanza aperto. Quindi in realtà bisognerebbe bisognerebbe sfocare un pochino anche il cielo. Ecco una cosa di questo tipo dovrebbe andare assolutamente bene. 13%. Vedete che non sono andato oltre il 20% neanche in questo caso. Quando si va oltre il 20% con gli effetti si vede che sono effetti. Invece se si sta sotto il 20% sembrano veri. Una volta che abbiamo finito, la cosa più bella di illuminare è questa ovviamente che con questo fader si può vedere il prima e il dopo gradualmente invece che di botto come quando si chiude e si apre un livello. E questo è proprio figo da vedere. Si vede la modifica che è stata fatta. Allora l'unico difetto di cui mi rendo conto è che qui c'è un bagliore che chiaramente era il sole e vediamo se c'è modo di andare a riparare magari aggiungendo Sunrise. Per cui io gli vado a dire di metterlo. Lui lo mette qua, io lo voglio portare qui invece e adesso vado ad aumentarlo e vediamo che cosa fa. Ecco lui spara subito, spara subito troppi. Adesso qui bisogna capire bene cosa sta facendo. Ecco così ci potrebbe stare così ci potrebbe stare perché sembra che venga da dietro agli alberi. Pochino pochino lo mettiamo qua così perché così matcha il riflesso qui sotto. Dobbiamo scaldarlo un po', non troppo. Una cosa del genere. Numero di raggi. Allora vedete magari che non è esattamente il massimo perché questo un pochino mostra il fianco nel senso che si vede che non è proprio realistico 100%. Tuttavia io se guardo il prima e il dopo è comunque stupefacente che cosa siamo riusciti a fare usando un solo plugin, usando solamente le funzioni integrate di Luminar AI. Devo dire che un'immagine così e adesso a questo punto a questo punto io andrei anche a concludere che una volta che siamo arrivati fino a questo punto gli si può dire applica così adesso l'effetto viene applicato sull'immagine. Devo fare dei test riguardo a questo perché non ho ancora provato ad applicare queste modifiche su un oggetto avanzato. È molto probabile che funzioni, che mi tenga le modifiche sull'oggetto avanzato così io potrei anche riaprirlo e andare a fare delle modifiche ulteriori. Però un edit con un plugin come questo su un'immagine che comunque è grossa perché è scattata con una fotocamera full frame ho paura che diventi veramente troppo pesante. Quindi tutto sommato visto che come avete visto è veloce, è rapido, cioè sono dei fader sostanzialmente che si tirano, non è un edit pesante, cioè non stai scontornando i capelli, niente del genere. Quindi io sarei molto propenso a tenerla semplicemente così, magari tenermi l'originale da una parte, qui non ho duplicato i livelli, avrei potuto duplicarmi il livello e lavorare su una copia così avrei avuto l'originale sotto. Io comunque vi faccio vedere il prima e il dopo facendo Comanzetta, a me sembra veramente veramente notevole per essere tutto integrato in un singolo plugin e per essere una cosa che avete visto quanto ci ho messo, cioè ci ho messo tanto perché ho chiacchierato, me la sono presa comoda, ho guardato i fader, ci ho giocato per farvi vedere anche cosa succedeva. Io se mi dovessi mettere a fare un lavoro di questo tipo e avessi fretta, a parte che poi potrei salvarmi il template di quello che ho fatto e replicarlo n volte, ma una cosa del genere se ho fretta e se so già cosa devo fare ci metto veramente due minuti a trasformare un'immagine da così a così e mi sembra veramente veramente notevole, anche perché guardate quello che vi dicevo prima, qui sì è vero, forse mostra un pochino il fianco, però in realtà è molto più realistico di una cosa che avrei potuto fare a mano, una cosa fatta a mano in questo modo avrei dovuto cercarmi delle immagini, metterle sopra, controllare che andassero bene, andare di maschere, mettere delle cose per miscelare bene i livelli, questo invece ha fatto tutto da solo, ha una coerenza pazzesca tra il cielo e il sotto, tra il cielo e il riflesso e anche la colorimetria dell'immagine cambia in funzione del cielo che abbiamo messo, poi può anche essere gestito, questo non ve l'ho fatto vedere bene ma è veramente veramente sorprendente. Luminare AI, eccolo qui, lui si apre ogni volta che io lancio il filtro, quindi questo è un po' un inconveniente, è come se si aprisse un applicativo in più, però quello che si riesce a tirare fuori a me sembra veramente veramente notevole e degno di nota, quindi se avete quei 70 dollari da investire per questo plugin, parlo soprattutto agli instagramer, quelli che vogliono stupire con un cielo wow, si possono importare i cieli, quindi se prendete delle immagini di cielo da 123RF, da Shutterstock, da Getti, da quello che volete, potete buttarli dentro e usare i cieli che volete con questo stesso plugin, con questo stesso flusso di lavoro. Veramente molto consigliato, io l'ho avuto gratis perché ho vinto il contest, quindi non ho nemmeno dovuto fare questo investimento, avevo il free trial prima e adesso invece ce l'ho full, quindi niente, sono molto fortunato e invece chi non ha vinto il contest se lo dovrà comprare, se lo vuole. Secondo me ne vale la pena, nei prossimi giorni vi farò vedere qualcos'altro, qualche altro edit fatto con questo plugin perché secondo me veramente può riservare delle belle sorprese. Io a questo punto vi invito chiaramente a iscrivervi al canale perché altrimenti io poi vi faccio vedere delle altre cose riguardo a questo plugin e voi ve le perdete perché non avete messo like, non avete attivato la campanella e questo insomma sarebbe spiacevole, quindi vi consiglio veramente di farlo. Inoltre mettete anche un like a questo video perché se l'avete guardato fin qui io lo so che vi interessa quello che state guardando, quindi tanto vale che mi lasciate un like così per il prossimo video sarò ancora più motivato. Detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.